La ricerca aerodinamica ha privilegiato una conformazione semplice e pulita. I deflettori verticali ai lati del muso prevedono una geometria più spinta per schermare i flussi che impattano sulle ruote anteriori, condizione che riduce gli effetti turbolenti e mantiene la colonna d'aria pulita nell'intero percorso di attraversamento del corpo vettura. L'alettone viene dunque alimentato dai flussi non perturbati, assicurando un'efficienza operativa elevatissima che trova sinergie d'eccellenza con il campo di depressione prodotto dall'estrattore in coda alla monoposto.